Articolo 14. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi di asilo dalle persecuzioni. E infatti oggi, in tutta Europa, in tanti hanno acceso una piccola lampada verde, anche qui a Roma ad esempio la piramide e la campagna Green Light, la lampada verde, che come abbiamo appreso nelle settimane scorse, ne abbiamo parlato anche qui, è quella che le famiglie polacche, sfidando una legge, accendono nelle loro case per segnalare ai profughi, ai rifugiati che scappano dalla Bielorussia, dal confine, che in quella casa si può andare, ci sarà qualcuno che ti farà entrare. Articolo 4. Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù. E infatti oggi a Foggia sono state arrestate 5 persone ed è stata indagata la moglie del capo dipartimento immigrazione e libertà civili, quindi quel prefetto che si occupa proprio dei migranti e anche delle loro condizioni di accoglienza e di lavoro. Nell'azienda, secondo le inchieste, i lavoratori venivano pagati 5,70 euro l'ora in una giornata di 8 ore, senza riconoscimento delle pause, in assenza di servizi igienici e senza protezione contro gli infortuni. Articolo 9. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato. Patrick Zaki è stato rilasciato dopo 22 mesi, dopo 669 giorni di arresto per diffusione di notizie false, per non aver fatto nulla. L'udienza è stata rinviata, lo sappiamo, al primo febbraio, è stato scarcerato ma non ancora prosciolto e quindi la mobilitazione deve continuare. Articolo 5. Nessun individuo potrà essere sottoposto a torture. La battaglia di Paola e Claudio Reggeni invece dovrà continuare, dovrà continuare la loro e la battaglia di tutti noi per avere verità e giustizia su chi ha torturato e ucciso Giulio Reggeni. Articolo 1. Tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti. Insomma, l'avete capito? Sono gli articoli, alcuni articoli della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo 10 dicembre 1948. Oggi la ricordiamo, non è un documento astratto, come abbiamo sentito, è la cronaca di oggi ed è il manifesto della nostra cattiva coscienza, delle nostre idee liberal-democratiche tradite, dell'ipocrisia dei sistemi democratici prima che di quelli autoritari perché quelli non sono ipocriti. Gli Stati Uniti hanno dato al generale Alsisi nell'ultimo anno 300 milioni di dollari per armamenti, 170 subito, 130 sono stati congelati in cambio di un qualche miglioramento sui diritti umani. Si calcola che nelle carceri di Alsisi ci siano 114 mila detenuti, mentre la copertura sarebbe 50 mila, ma come potete capire non è un problema di sovraffollamento, non è soltanto un problema di sovraffollamento. E allora mi chiedo se le armi, se i dollari sulle armi possano contare più delle dichiarazioni dei diritti. Questa sera, mentre andiamo in onda, Scanio Celestini dedicherà uno spettacolo a Genova, a Giulio Reggeni e alla frase che ha detto la mamma Paola, sul suo corpo ho visto tutto il male del mondo. Giulio è morto nel silenzio, Patrick Zaki è stato liberato anche perché in tanti, e anche noi, abbiamo parlato. Ma su quei corpi si giocano tante partite, politiche, economiche, diplomatiche. I corpi che non vediamo, i corpi dimenticati, i corpi che non sono riconosciuti, i corpi giocati sul tavolo della politica per creare paura o per mettere indignazione. E allora più che una dichiarazione di diritti abbiamo bisogno di una dichiarazione dei doveri, perché ogni volta che c'è un diritto calpestato c'è qualcuno che non ha fatto il suo dovere. Il dovere di difendere ogni singola persona, con il suo volto, la sua storia, i diritti umani se non sono un'astrazione. Esistono le singole persone, i singoli uomini, le singole donne. Il dovere di vivere da cittadini del mondo, come Patrick Zaki, come Giulio Reggeni, come Antonio Megalizzi. Il dovere della fratellanza e della sorellanza, che è un impegno costoso, è un impegno politico, è un impegno intransigente, ma senza il quale non c'è costruzione, non c'è progetto, non c'è sogno.